E fu così che preferì Turmoil a Minecraft Oggi, questo venerdì, preferisco registrarvi un episodio di Turmoil Piuttosto che registrarvi da Captive, lo so, molti di voi Luke Minecraft Raga, lo dico in questo video ma non spargete la voce Fanculo a Minecraft, facciamo altri giochi Perché Luke è Luke 43 sentici E' un po' di varietà in YouTube Italia Sempre Minecraft, Minecraft, basta, Turmoil Raga, siamo petroliferi, siamo quasi ricchi Cioè, continuiamolo, no? Alla scoperta del petrolio Come? Siamo rimasti nel video scorso, ragazzi Abbiamo sbloccato il deserto Benvenuti nell'asta, siete pronti a iniziare l'offerta? Mamma mia, mamma mia, raga Abbiamo sbloccato il diamante Ho, ho, ho Allora, la signora La signora si butti di capofitto A prendere questa cosa qua Ci hanno lasciato tutto Ok Allora, non ti vado a girare la roccia Allora perdi Aspettate un attimo, ragazzi, troppe cose Se vedi il diamante Hai bisogno di una talpa per portarlo in superficie Io ti posso insegnare questa utilità Abilità Quei cacchio le dico oggi Ragazzi, in poche parole Troviamo i diamanti Ma ci serve la talpa adomesticata Che riesca a portarli su Andiamo a vedere Diamanti 20.000 costa Posso adestrare le talpe Per estrarre i diamanti Ah, avere culo Beccare il diamante Questa è sfiga, in poche parole Beccare il diamante è la prima cosa No Non ti vado a girare le rocce Allora procedi in linea Retta attraverso le rocce Ok Qua, in poche parole Vi dico io cosa succede Abbiamo sbloccato Il latrivella Perfora Perfora 30.000 costa In poche parole Ora ci saranno degli ostacoli Nel sottosuolo Le rocce E noi col tubo Andandoci a sbattere Rompiamo il tubo Perdiamo dei soldi Dobbiamo aggirare le rocce Almeno che non sblocchiamo Questo 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 Ecco Questa cosa qua Il perforatore Dove possiamo perforare Cioè in questa punta Verrà messa In punta il tubo Quando noi mettiamo i tubi Nel sottosuolo Perfora Le rocce E passa attraverso Oggi mi sto spiegando di merda A noi non serve nulla Per il momento Ma ci servono tanti soldi Andiamo a vedere Come va il lavoro Si parte Madonna Vedevo l'ora di registrare Turmoil Mi sto troppo divertendo A fare questi video Fuori da Minecraft Porterò anche altri giochi Ve lo prometto Mettiamo una talpa Giusto per Mettiamo qualche cavallo E cominciamo Pampete Due cavalli E prendiamo in mano La trivella Dai dai Fischia Fischia Buon uomo Mentre lo fischiano Ragazzi vi ricordo In descrizione Il link per acquistare Una delle mie GG magliette Ok Il primo che fischia Proprio sul negozio Bambete Vai Ha fischiato anche lui Bambete Eeeh Uno ogni Vertice E poi uno Con ficcante al centro Ragazzi Guardate qua sotto Bambete La nostra talpa Ha trovato il petrolio Per cui sappiamo già la profondità Ottimo Ottimo Così Ragazzi siamo nella cacca Ok Che culo In poche parole Ho terminato i soldi E Meno male Che ho trovato il petrolio Qua a sinistra Porca la civetta Andiamo a vendere qua Veloci Velocizziamo un po' il tempo In modo che possiamo Fare un po' di soldini E compriamo Altri cavallucci Dai forza Forza Altri cavallucci Se no non ce la facciamo Oh cavallucci Ho detto Qua Bambete Andiamo a vendere Ok un po' di soldini Ne abbiamo fatti Dai Eeeh Qua possiamo scendere Ancora un po' Lì con il cavalluccio Ce la facciamo Oh guarda qua Una talpa qua E una talpa qua Tre talpe Ci cercano il sottosuolo Perché le talpe Possono trovare i diamanti Ragazzi I diamanti Non sono altro che forma di scambio Cioè il diamante viene venduto Il problema è che ogni giorno Cambia il prezzo del diamante Oh e lui trova qualcosa Ottimo direi Ottimo direi Anche lui Chi? Lui Lo chiediamo un po' il tempo Guardate che ho trovato Ragazzi A parte la roccia Ho trovato del petrolio qua sotto Ma proprio in fondo in fondo Qua sotto vedete Ora andiamo a vedere Ok Ok trovato 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 Possiamo potenziare i tubi Ok I tubi potenziati E qua sotto che non riesco a trovarlo Guardate Ragazzi c'è la roccia Bambete Si rompe Però ho avuto un riborso Allora non perdo i soldi Trovato il petrolio Anche qui Ma è possibile che qua in mezzo Non ci sia petrolio Mi sembra un po' strano Io metto un'altra trivella A dare una mano qua Lo so che non spreco di soldi ragazzi Però Voglio finire in fretta Bambete Ok Qua stiamo procedendo Tutto la grande Velocizziamo il tempo Possiamo farci dare una mano Da questa trivella Visto che ha finito Il problema ragazzi Che secondo me C'è qualche altra macchia di petrolio E non ce la fanno a trovarla Magari sotto sotto Porca bacca Porca bacca Vediamo un po' Andiamo a vendere Sta salendo di qua Siamo al 30 agosto Ragazzi E manca solamente quella trivella Dai 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 Ho messo altri rapdomanti Ma non trovano altro petrolio Speriamo in bene Speriamo in bene Io qua vorrei farmi dare una mano Vediamo un po' Se riusciamo Velocizziamo il tempo Dai forza Forza amico E ho trovato la roccia Porca bacca Però eh Allora una trivella Deve finire da sola Ah Devo sbloccare ragazzi Il potenziamento Quello che Posso dividere altri tubi Posso fare altre diramazioni In questo modo Ricordatemelo Per chi è arrivato fino a questo punto Ragazzi mi raccomando Hashtag Luke Quanti cavalli Così vediamo Se la gente Segue tutto il video Di turmoil E vi ricordo ragazzi Inoltre 5.000 like Per il prossimo video Se questo video raggiunge 5.000 like Farò subito il prossimo video O domani O comunque sia Il più breve tempo possibile Posso consegnare No qualche cavallo Sta ancora vendendo Ok Posso consegnare Incrociamo le dita C'erano altre due macchie C'erano altre due macchie Non le trovate Ragazzi Profitto 27.000 Che non è un profitteroll Qua è un tirami sul proprio Vivere proprio 27.000 Che si vanno ad accumulare 39.000 Mamma mia Ragazzi No Sono l'uomo più ricco del mondo In questo momento Mamma mia Posso fare tante cose belle Tante cose belle Posso fare tante cose belle Posso 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 Prendere il coso per i diamanti Posso Aumentare le celle Delle talpe Perché le talpe Vi ricordo che fanno Delle Dei triangolini No Sono le celle Se io prendo questo potenziamento Ora le talpe Rivolteranno Giascuna Tre celle in più Per cui Da sei celle Passerebbero a nove celle Farebbero nove buchi Tre buchi in più Nel terreno La velocità Di l'abdomanti La profondità Di l'abdomanti Questo è importante No Più importante ragazzi Secondo me è O la larghezza dei tubi O la dimensione No No Scusatemi Ramificazione Eccola qua Io la compro Prendo questa E prendo La larghezza Ancora di più di tubi In modo che Possiamo terminare Più in fretta No 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 Ragazzi Una cavolata È meglio prendere le talpe Addomesticate Posso Adestrare le talpe Per estrarre i diamanti Questo è molto più importante Ci avanzano giusto 7000 dollari Per il prossimo lavoro Forza Asta per i terreni Asta Damiano Prendi le mani Asta Damiano Prendi le cose Asta Damiano Ampio parcheggio Asta Damiano Prendo questo Che novità Bello Ci hanno lasciato il terreno Asta Damiano È il mercatone Dell'arredamento Mi fizza un asco Le talpe possono estrarre i diamanti Se trovi un diamante Posizionaci sopra una talpa Asta Damiano Allora Io direi subito Di non prendere talpe Ma di prendere questi aggeggi qua Per cui subito veloci Altro lavoro Sraptomanti Forza Cercate Petrolico Un cavallo Già lo prendiamo Insieme prenderei due Due cavalli Bambete Forza Fischia Fischia Asta Damiano Bam Subito Allora ricerca di petrolio Che ha fischiato Gli è stato Ora puoi collegare tre tubi A ciascun snodo Mamma mia Questa è una cosa GG for you babies Anglosassone ragazzi E questa è GG Perché ora vedete Che posso fare Fino a tre tubi Uno di qua Uno di qua E questa è una cosa Mamma 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 mia E mamma Mamma nostra Mamma mamma E si trova il petrolio Subito Faccio E si trova anche il secondo petrolio L'ho visto Hashtag l'ho visto Hashtag ho visto il petrolio Liwe E lui fischia Fischia Ma che fischia Dai dai Mi saranno i cammelli qua Forza Un altro cammello si può comprare Bambete Lo portiamo a vendere di là No salito a destra Salito a destra E tutti a destra Forza Altri due cammelli Giusto per essere più sicuri Abbiamo soldi per potenziare i cammelli Bambete E ora abbiamo soldi Per mettere un'altra trivella Bam E io metterei già qualche talpa Qua e là Speriamo ragazzi Di beccare un diamante Ora che abbiamo le talpe Adomesticate Adestrate Come si suol dire Speriamo di beccare i diamanti Io faccio 30.000 talpe Ragazzi La talpa mi ha trovato il petrolio Molto importante Però non mi ha ancora trovato Diamantoli Diamantoli Se vedete colori strani Sotto nel sottosuolo Ragazzi Ditemelo Ditemelo Allora che ha trovato Una cosa di petrolio Due cose di petrolio Io ci metto Guardate qua Bambete E bambete Qua c'è il petrolio In fondo in fondo Non l'avrebbe mai trovato Il rampdomante Ho trovato un altro petrolio Qui Bambete Qua Esattamente qua Ma bisogna andare a vendere E andiamo a vendere a sinistra Ok Altro petrolio Qua c'è una Questa deve essere una macchia Mega giga enorme Allora potenziamo i tubi E potenziamo Nel vero senso della parola I tubi Perché ora possiamo potenziarli Per tre Per tre Ora non ricordo Questo è il terzo potenziamento Infatti guarda come sale il petrolio Porca la ciabatta Porca la ciabatta Cavalli Ancora quattro cavalli E sono al massimo Allora voglio vedere Se è al massimo dei tubi Sì Ok Qua è per due Questi qua sono tutti al massimo Ho fatto i tubi per tre Mamma mia raga I tubi per tre Guarda qua Possiamo prendere tutti i cavalli Uno due Tre Quattro Sapete che forse ho fatto una cagata Perché ora Tutti i tubi per tre Io ho pochi cavalli Perché il massimo è quindici Se vi ricordate Ma ecco Ecco Andiamo un po' a girocchio A girocchio Ok Questa Questa Ecco 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 Guarda che ho trovato qua Ho trovato qualcosa Di strano Qua sotto Sì Certo Ve lo dico io Ora prossimo Sbloccamento ragazzi Doviamo sbloccare Più cavalli Più cavalli O potenziamenti per i cavalli Forza Ho trovato realmente il petrolio Mettiamo tante talpe Allora M Se io clicco M Mi da la ta Ecco qua È il tasto veloce Guarda qua quante talpe sto mettendo Ragazzi Mamma mia quante talpe Speriamo che le talpe Trovino qua Mi sta che è un po' di tagliare Ma mi stava furiuscendo il petrolio Sbaglio Andiamo a vendere di qua Forza 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 Vediamo cosa trovano I diamanti I petroli Guarda che le true Guarda che le true Ora posso fare Le ramificazioni E andiamo a prendere Questa qua Ragazzi Non facciamo I potenziamenti Per tra i tubi Perché Mi sta diventando Un po' troppo Difficilotto Devo fare il potenziamento Dei cavalli Delle macchie giga enormi Ragazzi Delle macchie giga enormi Non sto trovando Ahimè Diamanti Diamanti Però il diamante È piccolo 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 ragazzi Per cui bisogna avere anche culo Trovarlo Tante talpe Forza Con la M Talpe 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 Tante talpe Però le talpe Consumano un sacco di soldi Basta Basta Allora Abbiamo un po' qua Che ho trovato Petroglio Che ha già terminato Diamo una mano su Dai Potenziamo questi Ragazzi Guardate qua la talpa La signora talpa È Massimo tre Di ramazioni Ah due di ramazioni Ok Però posso continuare di qua Ho trovato un ciuffettino Lì sotto Una macchietta Una macchietta di petrolio Ed eccola qua Eccola qua Velocizziamo il tempo Perché secondo me Siamo messi abbastanza bene Mettiamo qualche talpa Qua sotto Magari troviamo qualcosa Anche un paio di Rapidomanti Non si sa mai Vai E siamo ancora a luglio Eee Ma qua è un dollaro Aspettate Facciamo un bel po' di soldi Non vorrei Anticipare nulla Ragazzi Ma Credo Vi ho fatto La botta Questa volta Credo Che sia il mio record Di partita Guadagnate una partita Siamo a 30.000 dollari Allora Diamo una mano qui Che questa qua È una macchia gigantesca Mamma mia Io metterei anche Un'altra trivella Davide una mano Siamo a 41.000 dollari Ragazzi E io metterei qualche talpa Ancora Sì Perché ho paura Che ci sia qualcosa Qua sotto Ho messo ragazzi Tantissimi Tantissimi Guardate quando Ho deciso il tempo Guardate tutte le talpe Bam 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 Lo decisiamo il tempo Il tubo qua Siamo a ottobre Mi sa che non c'è più nulla Mi sa che non c'è più nulla Mi sa che non c'è più nulla Terminiamo questa macchia di petrolio E mi credo Di aver fatto Il botto Credo Di aver Fatto Il botto Siamo a novembre Dai che voglio andare in chiusura Novembre dicembre Il 31 dicembre scade tutto eh Dai Dai che è finita sta macchia Dai che è finita Dai Un mese di anticipo Un mese di anticipo Posso consegnare il lavoro Incrociamo le dita Tutte le macchie Tre bonus Ah sta da meno Profitterol 57.000 dollari 60.000 dollari abbiamo Mamma mia Cosa siamo diventati Andiamo a vedere un po' nel salone che ci dice Oh no All right inc Che il prezzo può essere ancora più equo In cambio di una piccola donazione Ok Questo qua non mi serve Non mi serve Ho detto che non mi serve Ah vabbè è sempre lo stesso Ragazzi Fermi tutti Vorresti un basso tasso di interesse Dammi nel contante E l'anno prossimo Ridurrò i tassi di interesse Del 60% Guadagnerei ancora di più Io lo compro No però Stai cercando un terreno ricco di petrolio Dammi uno dei tuoi diamanti splendidi Splendenti E te lo indicherò sulla mappa Cioè questa qua mi indica La mappa piena di petrolio Cioè le Il territorio più di petrolio Ma vuole uno dei miei diamanti Peccato che i diamanti non ne ho E allora prenderei questo qua Bam Fatto Abbiamo interesse di meno Ragazzi 59.000 Attenzione Cavalli 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 Velocità cosa mi da Posso adestrare i cavalli In modo che corrono Molto più velocemente Senza fuoriuscite di petrolio Il massimo dell'efficienza Contatore Tieni d'occhio quanti cavalli possiedi Con questo comodo contatore di cavalli Interessante Comprerò altri 10 cavalli Così ora ne avrai 25 Comprato Comprato Voglio comprare la velocità dei cavalli Comprato Voglio contare il contatore Voglio comprare Comprato Dimensioni Mandria 3 Espanderò le stalle con spazio Per altri 15 cavalli Potrai averne fino a 40 Lo voglio al più presto Allora abbiamo 14.000 Possiamo Prendere questo qua Che per il momento Non ci serve Se no Io prenderei profondità Ragazzi Questo qua Questo qua Ho scoperto come usare La massima profondità Delle bacchette Da rabdomante Io andrei a chiedere Un piccolo prestito Un piccolo prestito Eccolo qua Diamanti I tuoi diamanti valgono 2300 dollari ciascuno Me ne vendi uno Oggi valgono 2300 L'anno prossimo valgono di meno O di più Ragazzi Piccolo prestito Allora costava 15.000 Per cui Il terreno E poi il lavoro Ok Andiamo a comprare Subito Profondità 3 Comprato Andiamo a prendere Il terreno Terreno è andato Ragazzi c'è stata un'asta Nella madonna Hanno pagato 6000 euro Il terreno verde Porco porco Allora Vai E si va A fare soldi Oh oh Genti Ora puoi potenziare i carri Due volte Ora i da rabdomanti Saranno in grado Di trovare pozzi petroliferi In qualsiasi profondità Ora puoi avere Un massimo Di 25 carri Ora Ora poi si è rotto il cazzo Ah guardate che figata Sopra i cavalli C'è un piccolo contatore Compro un cavallo Pammete Mi dice quanti cavalli ho Vabbè Non è che ci serviva Basta andare a vendere Qui a sinistra E qui a sinistra per esempio Ti dice quanti cavalli ho Vabbè E subito Lui trova E anche lui Andiamo giusto per Anche lui Subito trova E anche lui Subito trova E già petrolio Al primo colpo Che però Ho ciccato per un pelo Anche qui L'ho ciccato Ma era piccolissima Sta macchia Ma era piccolissima Ci diamo un po' il tempo Ok Ma era davvero piccola E ragazzi Invece la talpa Subito petrolio Là sotto Mamma mia Altri cavalli E io potenzierei Già i tubi Forza Forza Ora invece Ingrandirei i cavalli Oh Costa mille Per il doppio potenziamento Ai carri dei cavalli Voglio vederlo Allora Trivella Sì certo Certo sto arrivando Mettiamo delle talpe Allora Qua c'è del petrolio Ok Qua c'è del petrolio Ok Potenziamo i tubi Qua c'è altro petrolio Per cui subito Velocezziamo il tempo Trivella Petrolio anche a destra Ottimo 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 Dai andate a vendere sta roba Trivella qua E si scende fino giù Ah non mi bastano i soldi Ragazzi sto per farlo Sto per farlo Potenzio i cavalli Pampete Oh Una piccola lineetta in più Ottimo Ottimo Abbiamo 8 cavalli Ma è come se ne avessimo già 15 In questo momento Guarda qua Allora Talpe Talpe E qualcuno ha trovato qualcosa Allora qua sotto Ah ok lo vedo E anche qua sotto La talpa ha trovato qualcosa E anche qua sotto C'è qualcosa Mamma mia GG alle talpe Aia 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 Quattro via Aia E qua bisogna fare un giro Mamma mia Aspetta posso andare con questo Volendo Eh qua anche Tutto chiuso Lì ci stiamo arrivando Oh qua ci siamo arrivati Dai però Vi ricordo che c'è anche sotto Qua bisogna girare Mamma mia Guarda che giro devo fare ragazzi Qua ci siamo arrivati eh Qua potenziamo tutto Eh bisogna girare tutto qua Vedete A giramento dei tubi Perché devo comprare Il perforatore Al più presto Compriamo intanto altri cavalli Prima che succeda un patatrack Stiamo svuotando tutto ragazzi Cavalli che vanno Cavalli che vengono Cavalli che ci inguettano Però abbiamo fatto Abbastanza pochi soldini eh Pochi soldini C'era poco petrolio Devo ammetterlo Velocezziamo il tempo Quella macchia è quasi finita Mancano queste due macchiette Ma non ce la faremo mai Entro dicembre ragazzi Manca un mese Perché ho trovato Quelle due Queste due cose di roccia Dovrei fare un giro Da madonna con i tubi Ed è un casotto È un casotto Per cui il prossimo aggiornamento Ragazzi secondo me È meglio prendere il perforatore Vediamo però Mai dire mai eh Magari ci facciamo Manca un mese Attenzione Qua ho finito Se finisce anche di là Posso fare una dilamazione Dai 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 Forza Forza per favore Manca meno di un mese Meno di un mese Due tribelle Dammi la mano Dai 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 Possiamo farcela 10-15 giochi Finito Finito L'ultimo cavallo L'ultimo cavallo Ok Ragazzi Inclacciamo le dita Tutte le macchie fatte Ne ho trovato un sacco Ah Non ho consegnato Prima del fine lavoro È arrivato a fine lavoro Profitto 20 mila dollari Che non è male Che non è male Perché noi Ci andiamo a prendere Il perforatore Che costa 30 mila Ma non c'è problema Aspettate Abbiamo fatto solamente 20 mila Perché abbiamo pagato il prestito in banca Io andrei in banca Prestito Prenderei fino a 34 mila Uno, due, tre, quattro Per cui 13 mila euro di prestito Dollari Perforatore Lo compriamo E poi Andiamo subito All'asta dei terreni E poi Vedremo tutto Nel prossimo episodio Mi raccomando Tanti like 5 mila Nel prossimo video Un bacione Un abbraccio Spolliciate Condividete E soprattutto Commentate E ditemi Nei commenti Ciò che volete Un bacione Un abbraccio Al prossimo video Ciao Un abbraccio